Siete mai andati sulle montagne russe? Beh, se in questo momento avete investimenti in Cina, non ne avrete bisogno. Dopo un rialzo molto marcato, oggi il mercato cinese è tornato a scendere, e non di poco. Lengseng oggi cede quasi 10 punti percentuali in una singola seduta di contrattazioni. Sembra che il mercato in questo momento alterni periodi di estreme euforia a periodi di totale irrazionalità. Di fatto, se andiamo ad analizzare quanto accaduto nell'ultimo mese, non possiamo dire che ci siano stati cambi significativi nei fondamentali di molte aziende cinesi. Le valutazioni di multipli rimangono pressoché uguali. Ma se fino a ieri sembrava tutto ripartito e molti investitori avevano ripreso fiducia con la Cina che nell'arco di un singolo mese aveva portato a casa performance superiore ai 30 punti percentuali, beh, ragazzi, oggi invece sembra tutto completamente cambiato. Con gli stimoli che sembrano non bastare mai, e le previsioni riguardanti la crescita del PIL che sono state riviste a ribasso. Oggi abbiamo molto di cui parlare, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un bel like se ancora non l'avete fatto, per aiutarci a far crescere questa community di quasi 200.000 appassionati del mondo finance. Ma detto questo, partiamo subito con le ultime notizie. Ma da cosa è dovuto questo crollo dei mercati? Negli scorsi giorni questi sono stati chiusi per via della Golden Week. Una delle due principali festività nazionali in Cina, insieme al Capodanno cinese. L'impatto di questa sull'economia è decisivo per il paese, perché milioni di cinesi viaggiano e solitamente si assiste ad un aumento dei consumi. Di fatto quindi un grandissimo giro di denaro che entra proprio nelle casse delle imprese. E soprattutto un grande flusso di denaro arrivato negli ultimi giorni verso i listini cinesi, che ha permesso l'apertura del CSI 300 con un più 11% nella giornata di oggi. Ma quindi, cosa ha portato di nuovo in rosso i listini? Beh ragazzi, sono state le notizie del meeting della National Development and Reform Commission, l'ente governativo cinese responsabile della pianificazione economica e delle riforme strutturali a lungo termine della Cina. La riunione è avvenuta proprio 30 minuti dopo l'apertura dei mercati, e ha parzialmente delusio le aspettative degli investitori, con il CSI 300 che ha ceduto praticamente la metà del rendimento di apertura, e l'indice Engseng che è in fortissimo rosso oggi. Ma che cosa è stato detto in questa riunione? Zheng Sanji, presidente della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme della Cina, ha dichiarato che il paese intraprenderà una serie di azioni per andare a sostenere l'economia. Tra le principali misure ha appunto sottolineato l'intenzione di accelerare l'emissione di obbligazioni speciali per i governi locali, con l'obiettivo di andare a stimolare la crescita economica regionale. Inoltre un alto funzionario ha anticipato che il governo pubblicherà entro la fine del mese un piano di investimenti da circa 14 miliardi di dollari proprio per il prossimo anno, andando a superare completamente quelle che erano le aspettative iniziali. Il motivo principale che quindi è andato a portare in rosso i mercati è il fatto che la Commissione non abbia parlato di nuovi stimoli. Nuovi stimoli che si aspettavano gli investitori essere di portata maggiore, oltre a quelli già presentati la scorsa settimana. In secondo luogo, se andiamo a fare anche una panoramica sulla situazione macroeconomica cinese, possiamo vedere che gli ultimi dati usciti non sono stati proprio in linea con le aspettative degli analisti. Andando più nello specifico, secondo un rapporto di CNBC su una ricerca condotta dalla PANC mondiale, si prevede un ulteriore rallentamento della crescita economica della Cina nel 25. Nonostante l'impulso temporaneo derivante dalle recenti misure di stimolo. Nel suo ultimo aggiornamento economico, pubblicato proprio martedì, questa ha stimato che il tasso di crescita della Cina scenderà al 4.3 nel 2025, un abbassamento rispetto al 4,8% previsto per il 2024. La Banca Mondiale ha evidenziato inoltre che molti dei problemi attuali della Cina sono attribuibili alla debole spesa dei consumatori, che ha visto un calo dell'1,9% su base annua ad agosto, con la crescita delle vendite al dettaglio, che è un indicatore chiave della spesa dei consumatori, che ha toccato un valore del 2,1% su base annua inferiore rispetto alle aspettative di crescita del 2,5%. Per quanto riguarda l'inflazione, i dati mostrano che l'indice dei prezzi al consumo in questo momento è aumentato dello 0,6% ad agosto 2024, mentre l'indice dei prezzi alla produzione, il PPI, è sceso dell'1,8% su base annua, evidenziando pressioni deflazionistiche nel settore produttivo. Ma andiamo a vedere anche come si stanno comportando alcune aziende cinesi in questo periodo, in particolare per capire come questi stimoli andranno a impattare i loro business e anche le loro valutazioni in borsa, conseguentemente. Andiamo ad analizzare tre colossi, Alibaba, Pinduoduo e JD.com. E partiamo proprio dalla solita Alibaba. Questa si posiziona come uno dei principali beneficiari di questo massiccio programma di stimolo, volto a promuovere la crescita economica e a sostenere la spesa dei consumatori, con l'azienda che proprio nell'ultimo periodo sta iniziando finalmente a riprendersi. Attualmente il price-earning ratio dell'azienda è di circa 15, ma come si vede dalle previsioni del Nasdaq per i prossimi tre anni, grazie all'aumento degli utili atteso, questo dovrebbe scendere ulteriormente. Ovviamente dipenderà molto anche dall'andamento del valore delle azioni stesse. Se andiamo a vedere altri business simili come Pinduoduo o JD.com, notiamo come nell'ultimo periodo si hanno cresciute moltissimo proprio seguendo le orme l'andamento dei rendimenti di Bava. Pinduoduo in particolare nell'ultimo mese segna un più 65%, mentre JD ha quasi raddoppiato il suo valore nell'arco di un singolo mese con un solido più 80%. Ciò che accomuna questa crescita per le aziende del settore del commercio sono essenzialmente due iniziative. Uno, il tasso di acquisto inverso a sette giorni che è passato dall'1.7 all'1.5%. E oltre a questo una riduzione del coefficiente di riserva obbligatoria per le banche principali dal 10 al 9.5 a partire dal 27 settembre del 2024. Del coefficiente di riserva ne abbiamo già ampiamente parlato negli scorsi video. Andiamo a concentrarci un pochino sul primo punto per capire che tipo di impatto può avere. Il tasso di acquisto inverso è il tasso di interesse che una banca centrale offre alle istituzioni finanziarie per i depositi che queste effettuano presso di essa. Tipicamente questi depositi sono per un breve periodo di tempo. In sostanza quando le banche prestano denaro alla banca centrale stanno ricevendo un interesse sul denaro. Questo strumento viene utilizzato per andare a gestire la liquidità nel sistema finanziario, andare a controllare l'inflazione. Ma una riduzione di questo che impatto ha? Beh in primo luogo maggiore liquidità. Riducendo il tasso la banca centrale incoraggia le istituzioni finanziarie a mantenere meno riserve presso di essa e a prestare più denaro nel mercato, aumentando così la liquidità in circolazione disponibile per l'economia. Un tasso più basso può incentivare le banche a prestare di più ai consumatori e alle imprese, andando a stimolare le spese e gli investimenti. Questo può portare a una crescita economica più forte, più duratura, soprattutto in un contesto in cui si desidera sostenere la ripresa economica. Capite bene quindi che queste due iniziative avranno un impatto decisivo sugli utili di queste aziende e questo lo vediamo anche nelle previsioni degli analisti. Prendiamo per esempio Alibaba. Si prevede che gli utili cresceranno dell'11% per l'anno fiscale 26, rappresentando un significativo miglioramento rispetto al solido, ma non di certo alto, 3.6 previsto per il 25. A tutto questo poi si aggiunge il grande lavoro di innovazione che sta portando avanti l'azienda. Nel trimestre chiuso al 30 giugno 24, l'azienda ha investito 1.8 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, un aumento rispetto agli 1.5 miliardi nello stesso periodo del 23. Insomma ragazzi, tutto dipenderà da quanto tempo ci vorrà per vedere gli effetti degli stimoli economici nell'economia reale e in quanto tempo si riusciranno a andare a monetizzare gli investimenti in sviluppo delle singole aziende. Ad ogni modo, secondo diversi analisti, il problema principale della Cina rimane tutt'oggi il settore immobiliare. Come notiamo da questa analisi condotta da BBVA, il 90% delle città ha visto un calo dei prezzi delle abitazioni. In più, secondo loro, il settore immobiliare non ha ancora visto il fondo, con vendite e costruzione di nuove abitazioni previste in calo per tutto il resto dell'anno. Bene ragazzi, per oggi è davvero tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto e se è così ricordatevi di lasciare un bel like per sostenerci. Noi come sempre ci vediamo per un prossimo video, sempre sul canale di Ingegneri in Borsa. Ciao ragazzi, alla prossima!